Ciao, sono Rosa del Cazzepo Rosa Onus e ti volevo ringraziare, ringraziare perché una tua canzone è diventato il nostro inno, inno dedicato a donne in difficoltà, ragazze in difficoltà e la cosa bella è che spesso con i ragazzini la paragoniamo anche alla canzone di Mannarino perché la vita è una grande occasione, proprio come te ci insegni quindi ti ringraziamo e non bisogna sprecare quello che ci viene dato, non bisogna sprecare la bellezza, grazie, grazie tanto, grazie, grazie Rosa